Fabio Natta, Presidente della Provincia d'Imperia, ecco lei in qualità di rappresentante della Liguria per l'Unione Province Italiane appena stato a Roma, una missione romana dalla quale che cosa è emerso? Sì, sono onorato di aver avuto questo incarico in sede ANCI di rappresentare le altre, oltre alla Provincia d'Imperia, le altre due province Liguri nel direttivo nazionale di UPI. Il direttivo UPI ha analizzato in primo luogo le prospettive per gli enti provincia dopo l'esito del referendum, con l'esito del referendum un no deciso alla riforma e ha comportato anche un no deciso alla cancellazione delle province. Quindi le province restano a tutti gli effetti organo di livello costituzionale e come tale devono continuare ad operare. Il Presidente Variati ha proposto al direttivo una linea di azione sul governo che è stata condivisa nell'animità dal direttivo e che prevede a ritmi serrati una serie di richieste al governo per consentire alle province di poter operare da un punto di vista economico-finanziario, perché il problema principale è questo, in sicurezza. Ecco, una serie di richieste che prevedono la concessione di complessivi 650 milioni di euro che erano stati tagliati con la legge di stabilità. Questo è il dato più significativo, ma si chiede anche una riassegnazione di risorse per quanto riguarda le strade e le scuole, anche con i fondi ANAS. E poi si chiede in particolare, e questo riguarda da vicino anche province come quella di Imperia, che sono da tempo in predisesto e tecnicamente trattasi di piano di riequilibrio, l'istituzione di un fondo dedicato proprio a queste province. Tra le altre cose, un'altra richiesta è anche quella di concedere alle province di poter usufruire di professionalità indispensabili. Il riordino delle province, il taglio del personale ha fatto sì che non solo in Imperia, ma in tutta Italia siano venute meno delle professionalità importanti per poter garantire i servizi. Quindi senza queste professionalità, per il caso della provincia di Imperia, cito la mancanza di un geologo, ad esempio, in questo momento che ci crea dei problemi da un punto di vista indiscutibile sulle funzioni fondamentali e anche su quelle delegate, dicevo abbiamo fatto anche questa richiesta come UPI al Governo di poter usufruire di personalità, di professionalità relative ai settori in cui siamo scoperti. In buona sostanza, se possiamo riassumere, UPI cosa chiede al Governo? E lo farà nei prossimi giorni e nelle prossime ore, in tempi davvero stretti. Chiede che venga ridata la dignità a questi enti, perché questi enti meritano dignità, perché così ha deciso il popolo e al tempo stesso che vengano messi in sicurezza i territori. Le province svolgono una serie di servizi fondamentali, tra cui quelli relativi alla viabilità e quelli relativi alle scuole. I numeri sono impressionanti a livello nazionale e questa si parla di sicurezza dei cittadini e quindi noi chiediamo che vengano date le risorse ai nostri enti per garantire la sicurezza dei cittadini.